a favore di stacco fotografici si ben comincia questa sera una per la serata allora abbracciamo anzi diremo con la musica domattina ragazzi se lo affrono allora chi parla? chi parla? no allora iniziamo con la capitana insomma quella che mi ha fatto urlare più di più Mugolica per tutti in uno parlaci un po' di questa stagione non guardiamo indietro perché non lo rischio c'è un gruppo di compagni di ragazze straordinari ancora una volta protagoniste li guardiamo guardate ma la prima dove era giocata? in casa poi? in casa poi? grazie grazie grazie